Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Se la porca mamma, se la porca Ciao nonnina, stami bene il nono è cornuto eh E anche il nono eh Bello? Bello ma... Ah certo, non l'avevo riconosciuta, eravamo lì Anna se vuoi ti chiudo un fit comunque Non mi fermi che la tua ragazza No Stavi chiusa con lei nella stanza? Si E io l'hai dato Aaaaaaah Aaaaaaah Oh non l'ho fatto, oh non l'ho fatto, oh carabinieri, oh non l'ho fatto niente, oh giuro, oh giuro stavo pulito, giuro, guarda su Oh bar, raga, bar, bar, chat, bar, giratemi il bar gentilmente, giratemi il bar, giratemi il bar, bruttissima scena, bruttissima scena gente Bomba Fuglio Fuglio Fuglia Tutto bene? Giove Fuglio Togliamo pure... Sfida basata da tutti un applauso Maaaamma mia Mamma mia Mamma mia mamma mia mamma mia... Eh, tu sei togato? E me la prospa ragazzi Ok, ok, ok Ok, il mio amico è il tuo figlio? Arriva! Arriva! Sta arrivando! Sta arrivando! Arriva! Kiss! 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 Bacio! 500 sub? Ma a me devi dare 3.000 euro, bravo! 5.000 sub su 2.000 5.500, scherzavo Eh, gasi mille Andrea, gasi mille Andrea, allora fermi un attimo Eccoci qua, si è ritorato il Babs, è ritorato con il Babs che mi insisteva un attimo su tutti i capelli Tu devi inviarmi la fattura pezzo di merda Eh? Ah! Posso dire? Cioè è carina questa cosa Aspetta che ci sono i... Aspetta che c'è Frantinitona che sta plortando Ci sono i vestiti di zona che ci pettano eh Eh... Grazie! Giuro Anne, giratemi il bar Sincero! Oh, giratemi il bar C'era il fresco di sole che guardava il culo C'era il fresco di zona C'era il fresco di zona che guardava il culo C'era così, era così Era così, era Hai visto il culo? Eh... Oh ma... Giratemi lì, giratemi il bar Avevamo, ti faccio salutare Ciao! Ciao! Ma raga io sto volando Io adoro Fabrizio No ma... È suo amico Andrea Andrea Scusami Eh, già lo sai Grazie 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 Grazie, complimenti Grazie 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 mille Grazie mille Grazie mille, grazie mille, grazie mille, ce lo sai Allora, se ti prendi pure la ragazza di guardare gli occhi, bro Sotto le porte Ma che... Beh... Si vede la parese... E' una battuta che devo fare per entrambia, eh No, serio, per me puoi dirmi o no? Vedo il mio DM? Ma intanto io non sono fidanzato, solo per curiosità personale Ok, che vedo la macchina dietro Oh... Dire che lei è una... Cioè... Io spero, ragazzi, voi in chat non innamoratevi delle persone... Non mi sembra, eh Non ho mai fatto lifting, grazie, grazie mille, per avermelo chiesto Grazie mille, ma non sei per i sette mesi, gentilissimo Questo zio, porco, a Rose Villan, gli hai guardato le mammellone Ma... Che pezzo di figa Ve lo giuro, ragazzi È passato così davanti a me Prima dell'esecuzione, così Una dea Ve lo giuro, ragazzi, una cazzo di dea, Rose Villan Una cazzo di dea Invece è una lisa dove passa? Sì Così, guarda Ma sì, cosa? Racconta tutto Ah, me la son chiamata No No? Passa Aiutami che... Aiutami che... Mi devi aiutare, sono contro di noi Ma dai, aiutami Ma poi devi sedere così E come faccio? Ah... Ma dimmi nel mio... Gli ho messo... Gli ho messo il piede in pace Che cazzo ha fatto Cioè, raga, ho visto la scena in cui il ross... Ma sei masch... Si è maschiato Ragazzi, vieni un attimo con me Vieni dietro con me Vieni dietro... No, vieni dietro con me un attimo Un secondo Mi senti? Mi senti? Mi senti? Mi senti? C'è uno che vuole botte mi sa eh Ciao amica Tubao Buongiorno 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 Quante anni avevi scusato? Avevo 12-13 anni Ah Ah l'età proprio ci piacciono i 13 anni Facci capire di più Non ho capito questo Ah quando io ricordo i vecchi No quando parlano di bambine No ma no I got it Bevi Parti da giuro Parti da giuro Ah io sono giusto Vai 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 Sali Eh non so Vuoi farne venire No Vediamo Ci vediamo Gianni Oddio No È così Gianni Morandi bro Gianni Morandi Non è il padre di Pietro Non è il padre di Pietro È il padre di 13 Pietro Ma però hai capito cosa è successo? È entrato Gianni Morandi bro In live su Twitch Ma si possono fare battute Non si possono fare battute